Ciao a tutti e a tutte, rieccoci qua su Dark Souls 2 con una nuova boss fight contro i Gargoyle della campana Dovremo andare nella stessa zona dove ci sono le sentinelle della rovina Dopo averle battute arriveremo qua che è la stessa zona dove veniamo invasi dal persecutore Dovremo fare sta cosa e attiveremo appunto questa cosa che è un passaggio segreto E da qui possiamo proseguire verso il boss Verremo invasi ma al momento non sappiamo dove cazzo stia e quindi prendiamo sta cosa Una volta arrivati qua, verremo attaccati da un sacco di nani E per di più scopriremo che siamo stati invasi da un nano Eccolo lì, vedete quel nano rosso? È il fantasma Lo spirito oscuro e facciamogli il culo a sto maledetto nano Che dite? E voilà, ok Ora tiriamo sta leva del cazzo E da qui possiamo andare avanti Abbiamo aperto il passaggio per la nebbia E ora possiamo affrontare quel maledettissimo boss Ed eccolo qua Questo stronzo brutto Ma ce ne sono più di uno E quindi è un casino ragazzi Combattiamo va Si stronzi bastardi Vabbè Allora Allora È un casino Sono un po' un problema Più che altro perché sono tanti Ah cazzo E attaccano da chissà dove Se non vi ricordate male Questo boss È presente anche Nel primo dark soul E questi sono dei grandissimi pezzi di merda Dimmi te Cioè ditemi voi se mi devo andare a cercare i boss nascosti Eh vabbè Non importa Non importa Orca troia Brutti stronzi Siete bruttissimi Morite male tutti quanti Morirete tutti male Sputa fuoco del cazzo Devi mangiare un po' meno piccante Battuta del cazzo E sti cazzi E che cazzo E vabbè Allora eh Calmiamoci Stiamo calmi E nessuno si farà amare Ok scherzavo A parte che qui nessuno sta calmo Maledetti criminali Ma questa qua è un'associazione a delinquere Porca troia Ah vieni stronzo Vieni Brutto Maledetto Pezzo di merda Di un gargoi del cazzo Sì e poi Cazzo Ok E adesso puoi anche morire Stronzo Ok I boss Sono stati battuti Ma Non è Finita Qua Infatti Adesso andiamo Un po' avanti Già Eccoci qua Il falò Accendiamolo Falò acceso Cosa ci sarà mai Andiamo Cani Morti E uno stronzo Allora Porca puttana Se sei stronzo Là c'è qualcosa Da prendere Là in fondo Eh Brutto Stronzo Maledetto Di un fantasma Quindi dopo aver ucciso So stronzo Ricordatevi di prendere La cosa Là in fondo Che è veramente Stronzo Salance Del cazzo Ma te la infilo Super il culo E ti sventolo Come una bandiera Ok E chiuderò il video qua Se vi è piaciuto Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al mio canale Lascerò in descrizione Tutti i miei link E vi consiglio Di andarli a vedere Uno per uno Perché Ci sono cose Veramente fiche E anche utili Devo dire E boh Ci vediamo al prossimo video E ciao a tutti Grazie